benvenuti bentornati o ben qualsiasi cosa vi piaccia mettetelo pure qui farò oggi non ho pensato a che terza parola inserire io sono flavio oggi giochiamo un po di pauper in vista del pauper gheddon preparazione per quel gran torneo che sarà questa volta nella in lombardia e soprattutto anche in previsione dell'evento del 12 marzo che invece è diciamo da un buy al pauper gheddon che si svolgerà al labirinto di bollate e udite udite commenterò io insieme all'ottimo alessandro saponara quindi non potete perdere assolutamente l'evento perché quantomeno non so stavo per farmi un complimento tipo vedrete giocare anche male ma ci sarò io non è vero cioè nel senso probabilmente chi giocherà sarà molto più preparato di me sul pauper ma comunque è giusto andare perché devo dire queste cazze ben guardate lo facciamo così poi vi lascio i link in descrizione seguitemi sui social così poi vi lascerò anche i link di quando commento gli altri eventi tipo i mercoledì sera quando vado a giocare commento dateci un'occhiata e seguitemi anche lì comunque oggi giochiamo tireless drive mazzo che mi fa continuare nella mia serie di ehi non l'ho mai provato sembra complicato non è una buona idea portarlo sul canale facciamolo quindi anche oggi giochiamo un mazzo che secondo me va testato un po e però mi interessa molto i due mazzi che interessano molto in questo periodo sono questo e goblin che voi direte bella merda tanto altart sono tre realtà altartron lo sto giocando e lo sto studiando questo è interessante goblin non voglio provarlo su mtgo quindi ho deciso di mettermi un po così a testare questa questa versione è una lista che ho preso dall'ultimo penso spring wheel event del power wave per la per i buy per il ghetto non mi ricordo comunque è di un ragazzo italiano che ha giocato questa lista che ho giocato prima di registrare questa parte in realtà adesso faccio così prima lo gioco poi ne parlo così vedo se ci sono delle tech che di cui non mi accorgo subito e ho fatto alcuni cambi li vedrete alla fine dell'ultimo matchup quindi nel caso andate in fondo a vedervela o aspettate fino alla fine per vedere come non giocherei io questa lista realtà è solida ci sono delle cose che non mi piacciono per il mio game style parole inglesi a caso però è così allora 19 lande che per un combo perché stiamo giocando un combo ci sta abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 isole e tre penure importanti che siano snow cover adesso vediamo perché più 7 shuffle effect perché giochiamo le brainstorm quindi giochiamo tanti peschini quindi molto interessante 19 lande così ci stanno peschini appunto ne abbiamo parlato li mettiamo divisi tra di loro eccoli qua ci andiamo a mettere dentro anche i fallaggi anche se non sono proprio dei peschini peschini abbiamo doppio di panalisis molto forte questa carta anche da scartare con il nostro tireless tribe che è la creatura che dà il nome al mazzo ed è un 1 1 che prende più 0 più 4 quando scartiamo una carta fino a fine turno quindi insomma molto bello questa cosa di avere di panalisis che nel caso si può fare anche a 2 4 brordain che è il peschino più forte del pauper secondo me 3 ponder e 3 brainstorm perché comunque le shuffle effect ci servono tra di loro se lo fanno in più ci sono le hash barrens e le evolving wilds mettiamo anche il 4 per di fallaggi archeologist che ha giusto no non ve la faccio vedere la lista che vi dicevo però è un cambio di cui parlo durante le partite non è male ci fa vaglio in mano ci può stare secondo me questo oppure ve lo dico poi lo paragonerò a augure of bolas nel senso che comunque questo è vero che può diventare un 1 4 e può anche non prendere niente non missa perché possiamo andarci a prendere anche wedding invitation ma l'altro pezzo non ci rischia di far macinare che so la mono montagna base di side piuttosto che una carta tipo c'è stato uno spot in cui avrei voluto bruciare questa figurina ma quasi bruciare questa figurina ma dopo lo vedrete poi creature a parte la fallaggi che andiamo a rimettere anche nel suo altro reparto abbiamo appunto 4 per di per le stripe carta molto interessante non so l'ho mai avuta tra le mani però ha un art fantastica secondo me voglio vedere come dar real un umano 1 1 costo 1 che prende più 0 più 4 quando scartiamo una carta che ci fa vincere la partita grazie a inside out che è una carta a costo 2 con una delle art più brutte del mondo quindi ci stavano in combo per questa cosa che dice switcha la power toughness di una creatura bersaglio fino a fine turno pesca una carta quindi noi lo facciamo pompare all'infinito e poi facciamo inside out ci sono un tot di cose a cui pensare quando giochiamo questa cosa ma vedremo come va 4 per di tra ben scusatemi 3 per di tra ben inspector uno e meno di quelle consegnate da consigliate da lex woolman ma un'ottima carta in questo mazzo tutte queste carte sono comode perché si 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 ciclano e noi comunque di carta in mano ne abbiamo bisogno poi protezioni abbiamo mono blacksmith skill e 4 per di circular logic un counter che è molto strano perché dice a costo 3 counter una spera meno che il suo controllo non paghi 1 per ogni carta non l'avevo letta bene ragazzi nel video sappiate che ho letto male questa figurina e l'ho pensata male tutto il tempo proprio letta molto 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 male counter una spell a meno che il suo controllo che non paghi 1 per ogni carta nel tuo cimitero fortissima è fortissima scusatemi mi sento un coglione vabbè poi altre protezioni 3 coppie di prismatic strand che comunque ci sta in questo meta di mono red super bello altra parte di combo interessante e si cicla wedding invitation l'artefatto costo 2 quando entra nel campo di battaglia pesca una carta sacrifica l'invitation una creatura non può bloccata non può essere bloccata per il resto del testo non ci interessa per niente e white out non saprò mai come chiamarla durante tutto il video incredibile carta a costo 2 che dice tutte le creature perdono volare non ci interessa niente la quarta che interessa è sacrifica uno snowland fai tornare questa carta dal cimitero lato umano motivo per cui tutte le terre basi che abbiamo sono snowland questo è il main io sto ancora pensando che ho letto male circular logic che l'ho valutata a pochissimo invece in realtà è molto forte fa niente la side è composta da altre protezioni quindi tripla copia di dispel con arte differenti quattro copie di idro blast per andare a prendere mono red principalmente quattro copie di piracy charm che non ho capito fino in fondo questa l'ho letta bene giuro è vero è forte contro fatine è un brutto matchup fatine presumibilmente non so cioè non lo so qua due per di obsidian acolite l'accolito che protegge dal nero ed è protetto dal nero nel caso e una copia di flaring pain insieme alla montagna base che ci va appunto regalata insieme per i matchup tipo fog e tron che in questo momento con il loop di nebbia e a noi ci slanno leggermente sulle palle però a parte questo piccolo errore su circular logic che adesso sto rivalutando tantissimo il mazzo mi è piaciuto molto e ci vediamo durante le partite allora prima partita e siamo sul draw mazzo che ho giocato penso mai confermo il mai comunque questa mano è piena di brainstorm è un modo per sciaffolare la library che in pauper non è proprio tantissimo presente ho delle carte brutte da sciaffolare tipo una delle brainstorm e una pianura vai siamo contro monoroute credo vediamo un'altra bisogno di fare isola passo e poi sul passo fargli brainstorm mettere via almeno una pianura vediamo ok lui non ha fatto niente tra l'altro siamo molto contenti ha tenuto a 7 cioè no vediamo adesso ha tenuto a 7 per poi fare questo di secondo quindi ha comunque una landa in mano e che palle mi sarebbe molto piaciuto avere un circular logic in mano costa 2 circular logic dalla mano non mi ricordo mai no costa 3 quindi no non mi sarebbe comunque piaciuto avere un circular in mano vai fino alla hand step qua beh se troviamo una traben o un fallage comunque abbiamo dei blocchi sul pezzo ah ma lui è boros ci mangio una landa boros proprio lui è boros noi mettiamo via sicuramente questa credo proprio una brainstorm abbiamo un archeologist come dicevamo prima vado a prendermi una planes comunque me la ripiglio in mano non male allora facciamo terra archeologist che non so se prende qualcosa cioè tendenzialmente vorrei evitare di prendere cose infatti quella va bene anche lì ho un blocco forte una brainstorm vai certo il blocco potrebbe morirmi causa bolt però vediamo volevo più una fallagi che un archeologista se posso dire la mia che palle si questa brainstorm aspetteremo a tirarla il più possibile chiaramente adesso detto questo la tirerò a fine turno come è ovvio no scherzo vorrei evitare cioè se non mi serve tendenzialmente prima si è mangiato una landa bianca magari in mano non ne ha domanda chiedo eh secondo cool dota non posso giocare per favore una vratta col bianca holy light e mica ha trovato anche la piena roba per fare glintalk che bravo voglio giocare anch'io così a magic posso dirma che voglio giocare così va bene fai glintalk porca eva doppio cool dota più terra che trovo che gira glintalk qua attacchi doppio sint doppio cool dota peraltro di più o meno 116 carte ok hash barrens non è male facciamo una brainzer sì allora in realtà metto via questa che tanto vado a cercare che tanto vado a cercare eeeh penso without che non si scrive non si dice chiaramente così voglio tenerci un bianco open non credo basic grand cycling vero vero che qua devo tenere il bianco secondo me quindi wedding impeditions lui ha ancora sei carte in mano vai pure synthetizer di ah un altro synthetizer è il terzo sta minchia come fa terra due danni qua sopra dopo che paro beh non mi muore il pezzo terzo synthetizer dalla mano neanche girato pazzesco perché quello non gli fa pescare sì imparo un goblin zio farei bolt su questa vabbè mamma mia che schiaffoni mi sta tirando in maniera violentissima eh 10 che ci possiamo fare allora qui farei un preordain ha tre tribe molto carino secondo me possiamo mettere sotto questo e sopra te ci attiva anche la possibilità di fare prismatic del cesso quindi insomma vorrei un'alanda vorrei un'alanda questa forse è meglio perché il prossimo turno potremmo chiudere porca eva a questo punto mettiamo sopra without evolving wilds che ci conta per questa e poi tipo analisi spero ultima direi tanto non dobbiamo farla l'alanda shuffle no è imbloccabile abbiamo inside out abbiamo protezione del rosso direi che il prossimo turno abbiamo buone possibilità di fargliene un po' perché sono cinque vabbè attacca paro paro da protezione del rosso direi se mi fa qualcosa faccio questo se mi fa qualcosa faccio questo devo tenermi aperto il blooper circular logic beh ma fa canter a me che non paghi uno quindi non è che mi sembri proprio una figata incredibile devo dire magari si cioè meglio è però vediamo il nostro oppo sta pensando alla sua vita quindi ci sta attenzione del rosso c'è da dire che se mi fa giorni turnover qua non sono proprio felicissimo però mica non ci ho pensato cioè non avevo risposto comunque giorni turnover li porto via due goblin vado a otto vediamo ok ok allora il problema è che non ho strength forse posso aspettare un turno ancora perché il turno dopo ho inside out più strength più la sua abilità quindi si credo di poter eh no eh si aspetto direi che aspetto facciamo wedding invitation perché siccome fa bolt sopra il pezzo dopo che l'ho girato 200 volte non ci faccio molto forse la risposta al trigger feccio 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 il cazzo perché ho messo auto heal perfetto ah già che c'era quella in cima vabbè fa niente vai tocca a te se no 8 e poco 8 devo ammettere che 8 non moltissimo posso fare paro sono a meno di 8 sono a 5 minchia eh sono a 2 vero sbatti dai poi c'è veramente non posso fare niente all damage eh non posso farci niente con c'è la partita pazzesco aveva 200 botti comunque non credo di aver potuto fare non avrei potuto fare molto madonna doppio sint triplo sint doppio cooldown dota 4 3 2 bolt quindi 4 botti minchia no vabbè era imbarazzante non credo che avrei potuto fare nulla nel prossimo turno vincevo ma non bastava allora tripla idro 2-1 discard non mi interessa molto secondo me tagliamo le tip analisis in questo matchup le traben sono tutte belle blacksmith tanta roba un wide out wide out e via un peschino secondo me via un ponder ok proviamo così madonna mia che dolore che mi ha fatto cioè così non vincevo mai comunque perché tanto cazzo poteva fare botto e botto in risposta e poi botto in risposta questa kippa perché si vede in olanda mi sembra buona non la vedrò mai lo so che non la vedrò mai no c'è e peschiamo quest'archeologista non credo che mi interessi particolarmente sotto sopra vai abbiamo il bianco monasteri ci sto non l'avevi vista prima borosagro lui perché non giocare in mono red mi chiedo e mi domando cerco il bianco non sto neanche ad aspettare vai sembra sempre più forte giocare in mono red si se tornò fa auto heal giusto perché se fa cose abbiamo idroblast in mano si una possiamo gestire due cominciano ad essere veramente come ma perché i suoi mtgiomi aprono sempre queste mani che dici minchia di più potevo solo vincere la soprana lotto ok e qua priordem per cercare la landa che ci sembra abbastanza importante belle tutte e due sopra sopra non è proprio la landa che volevo perché speravo in una landa blu no per fare l'archeologista col target però fa niente facciamo e vai tra ben che vorrei rimanesse viva se si può scegliere forse qua potevo fare già tireless tribe perché poi il turno dopo potevo scartare strength erano quazzo oddio quanto è complicata sta cosa va bene a due va bene e poi ho inside out in cima si 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 gli ho regalato un turno per un gazzo molto bravo Flavio vediamo se rimane viva è rimasta viva sono già soddisfatto per ora facciamo questo secondo me facciamo anche archeologista senza troppi problemi abbiamo dei blocchi guarda scarto prismatic strength te lo dico se proprio proprio io scarto prismatic strength poi vedi te ah counter spell va bene si 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 hai tre carte in mano vai tocca a te secondo me giocare 3 traben è un po pochino ne giocarei 4 perchè più che altro la cosa forte è di avere traben dietro contare le stripe che può menare cioè non è male eh questa non ha vigilance quindi direi che questi nomadi umani che carta pazzesca 0 più 4 insuperabile 1 1 5 costo 1 vediamo un po' cosa capita non non un blocco ecco eh lui ha 197 remove proprio boom non posso pescare perchè peccato pescare sarebbe stato figo no un giorno ah ok 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 è vero che pesco poi di inside out anche eh quindi se peschiamo di inside out una terra e diventa molto bello vediamo ora si rimbalza il pezzo che fa for me il rodin ah no ma aspetta può essere bloccato quel cesso ho sbagliato tutto ho bisogno di wedding announcement preveniamo il danno sta pupesco wedding announcement un palo spacco il clue token mi ero bruciato questa cosa purtroppo no facciamo terra che non fa schifo eh però ha due carte in mano lui vai si possiamo avere un beh già che abbiamo eh no però doppio tele stripe quello che non blocchi però poi diventa ragazzi proprio giganti si bene come attacca lui non sei eh sei non sono proprio pochi posso dire sei eeeh ma lui ha sempre dei blocchi va bene c'è vediamo come attacca però attacca con tutto zio grande allora io qua non blocco niente 2 4 3 7 vado a 5 sono stato peggio in realtà potevo parare un pezzo e scartare però non fa niente allora terra noi attacchiamo con tutto poi facciamo inside out su un pezzo che tanto è instant quello che non blocca e lui prende eh uno supponiamo poi prende cinque poi prende nove tredici dice si dovrebbero essere abbastanza no questo cosa dice rileggiamolo sacrifica una snowland riprendi dalaimana dal cimiterio ok dovremmo aver vinto adesso mi fa fireblast sul pezzo devo tenere dietro uno minchia effettivamente potete tenere dietro uno non ho pensato a fireblast però non ha due montagne quindi va bene prismatica cioè scarto prismatica poi facciamo sacco questa carto tredici sì 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 ce la portiamo a casa ok ho capito come funziona il mazzo bravo c'è voluto un game però l'ho capito cioè lui deve attaccare di brutto c'è 7 c'è 7 dovrebbero essere sufficienti ok 22 a te vai ok allora andiamo a g3 secondo me possiamo stare così vedete l'impegno in dispel e i dispel non mi sembrano malissimo i dispel non mi sembrano malissimo neanche i weed out perchè scommano abbastanza bene se posso dire forse taglio un circular logic perchè se ne taglio uno ne taglio tutti mi va bene mi va bene ok i dispel tradano col suo col suo mana a prescindere che io abbia in campo tirla e stripe o meno quindi mi va bene ci ho messo solo counter che tradano effettivamente con le sue risposte instant alla mia combo quindi ok se il circular logic effettivamente rischia di non essere del matchup percato che primary charm dia meno uno e sennò quella monastery l'avremmo tolta ma monastery di carta da power quindi ci sta e mamma mia che mazzo strano che è cioè combo con le creature non li gioco tanto perchè non mi fanno particolarmente impazzire cioè reanimator non è un combo con le creature è un combo che porta le creature e anche tra e bella tra bene in spectro e anche KCI Altertron non è un combo con le creature però idealmente si però non come questo ma va Kipperino lui che fa Kippa7 anche lui bel bel mazzo devo mettere interessante cerco subito non ti sto neanche a fare a perdere tempo che non mi sembri già il player più veloce del mondo vai pure ok bello che dico ok come se fosse successo qualcosa anche se quando faccio terra passo e lui fa terra è interessante ma lui io suppongo che abbia tipo i cleansing wildfire o di meno di side un bolt in testa minchia non ha la seconda landa ehi una madonna devi essere bello aggressivo eh non faccio tribe qua perchè non ho niente di bello da scartarmi aspetto un turno poi cioè voglio almeno il secondo mana blu eccolo va tutte e due belle queste carte vai adesso possiamo fare tribe protetto due volte quindi comincia ad essere un piano non abbiamo inside out però vediamo posso anche menarlo come un fabbro con i mini tribe in inspector falchezio falchezio che gira la terra sarebbe stato bello fare tipo remove al qua instant ma non ce l'ho eh falchezio ha girato a terra noi non abbiamo i dust to dust è il primo mazzo bianco che gioco che non hai dust to dust mi sento un po' così spoglio qua facciamo un ponder belittuti no beh tutte no in realtà cazzo eh facciamo che prendo guide no beh adesso posso metterlo al cesso forse e prenderlo in mano di fallaggi no secondo me anche lasciarlo al cesso però lo vorrei nelle prime carte poi faccio archeologista quindi facciamo tac tac e a panino questa shuffle no facciamo terra archeologista ok mi manca sempre inside out eccolo qua wedding announcement intanto molto fico e passo un pezzo della combo ce l'abbiamo dobbiamo non morire da glintok cosa che è successo a g1 e poi siamo sereni devo dire che ho affrontato momenti peggiori nella mia vita di giocatore di magic si entetizer che comunque devo dire che ci ha affezionato il nostro amico verissimo mi ha fatto nooo cazzo vero che sono andato a fare il momento giusto e che palle giusto eh non funziona benissimo lui che lo fa terra relic tutti sti falchetti non potevi fare dei pezzi appiedati ma che ho i blocchi no i falchetti terra relic noi per relic cioè non abbiamo più risposte per gli artefatti perché ce ne sbattiamo i coglioni ok mi sembra una scelta si prendo due wedding invitation ciao terra e spacco clou wedding invitation numero 3 vai forse come devo fare l'altra tra ben ma vai chiaramente ci lasciamo qui da white out nel cesso perché non vogliamo bruciarcela così cioè almeno che lui si impegni un pochettino da 14 dopo non è proprio tantissimo cioè abbiamo un pezzo della combo in mano ci va anche inside out che comunque possiamo cercarci non è che abbiamo tre pescate cioè nel senso abbiamo quattro carte che pescano in mano però è che lui ha fatto doppio falchetto volante cazzo cioè doppio volante è fastidioso viena con tutto proprio lui non gliene frega un cazzo della vita cioè ok non lasciamo vabbè adesso farà il blocco cosa giri di synth un altro cool dota beh un target bello perché qua strait soprattutto se non la terra rossa per fare questo se ce l'ha eh vabbè si fa saltare una terra manatite manatite mica se mi fa manatite vince lui ok oh ma che bello allora wedding invitation una terra ciclo terra prendo blu faccio questa e poi faccio trabile inspector lui non può neanche rompere il relic perchè se no mi mangio una terra li faccio tornare without in mano beh prismatic strength comunque buono vai prismatic strength molto buono secondo me basterà sempre tenere stappata una traben in questo spot vai mangio una sparence dao shimitir certo facciamo lui si no undo cioè stop yielding a questa perchè poi mi fa sicuro me la spacca io non faccio without dal cesso mi tiro una testata forte contro il computer ok lui è rimasto indietro di lande io andrei a 10 non è che posso farci tanto cioè finchè non trovo inside out posso farci veramente poco allora adesso con wedding invitation è quasi inutile che lui stia indietro quindi l'ho spinto ad attaccare giocando questa però non è che non potevo non farla si si monasteri beh questa fallaggi è qua guarda proprio ti guarda che facciamo ok prendo 4 vado a 10 5 carte non sono proprio pochissime però micchia ancora vivo anche i fallaggi sono quasi quasi sorpreso ok stavo pesco inside out va che bello va che bello allora noi qua facciamo una combat con tutto perchè comunque sono 4 4 8 12 16 tu sei ciorca non posso fare la combat con tutto no pesco si cicla lei si no vero vero ok allora portiamolo fuori da vorrei evitare di tirare questo dispel facciamo facciamo che prendo un blu e faccio questo così mi riesco a mettere anche prismatic strand al cesso dovrei riuscire a vincere abbastanza cioè ho la dispel per il suo piroblast su inside out quindi insomma va bene no mi sento abbastanza tranquillo in questo momento della partita bravo che l'abbiamo pescato beh cioè ho fatto un tot di peschini per ordain ponder e wedding invitation un peschino di loro e una fallage lui veramente secondo me è scriteriato ad attaccare sempre con tutto ok quindi facciamo un blu e la sacco e poi risolve la tua exile all card from graveyard ok e lui è fuori dal botto fin tanto che non lo giro scarto questa facciamo così e faccio cosa scarto ma è buono facciamo così tredici far perdere volare è interessante ma non è quello che mi serve diciassette riportiamo di nuove mano without scarto tè ok a sto punto li facciamo sopra col bianco ok e un attimo 21 devo tenermi una no ma in realtà anche se fa botto sono sereno perché tanto mi posso scartare prismatico pesco pesco ecco lì e noi qua facciamo un ottimo dispel qua sopra e toh esagero 25 e ce la portiamo a casa buono buono si vabbè cioè lui ha visto sempre veramente benissimo tranne l'ultima partita però onesto ce la siamo portata a casa non è male questo mazzettino eh devo ammettere che interessante allora aspetta ho fatto rec beh siamo sul draw la mano è ok abbiamo sempre branza più evolving wild quindi sembra buono ok trono altare quindi non vedo troppi blocchi ok dobbiamo cercare un inside out la circular logic non è male secondo me vorrei lei e poi vabbè devo pescare un'altra per forza credo di pescare non strength ma la seconda tribe che vabbè non è malissimo circular logic con in campo una tribe da turno 3 non è male perché poi dobbiamo fare wilds comunque beh poi me ne scarto di branza quelle che non mi piacciono che è la versione con steering si giocano tutti adesso non mi fa impazzire previsco sempre la versione con recorders bargain si ti aiuta a sembrare il trono più veloce quello è vero ok allora noi qua facciamo questa passo forse logica sta già diventando schifo se chiude un trono se chiude trono così ok beh possiamo buttare via logica si forse qua poteva starci fare evolving wilds no è uguale in realtà non mi cambia nulla next and step e togliamoci circular logic e secondo me questa prismatic strength è inutilissima ciclo landa prendo bianco stappo pesco allora e abbiamo riscato va bene facciamo tribe ponder allora noi questa trave non ci interessa quindi facciamo così shuffle no ci manca un mana per chiedere il prossimo turno certo noi poi attaccheremo potenzialmente perché comunque ci sta però ci grazie vediamo se ha già la combo ha già la combo però però devo avere quella di make shift se no provo a vincere il prossimo turno non credo di farcela in realtà qua fa deadly dispute ok è una gara tra combo però secondo me il suo è più veloce chiaramente non gli faccio fare tutta la combo nel senso nel momento in cui mi dimostra che ha la vittoria in mano siamo sereni così i core di nuovo ti avanza un bel mana ok non ti avanza un bel mana abbiamo wedding inviti si circular fa veramente cacare in questo spottone però in cima abbiamo un'altra landa in realtà dopo noi faremo tireless più passo credo eh eh si no non possiamo più fare il piano seconda tribe passo ok allora noi qua facciamo evolving wilds feccio prendo credo il no cover e facciamo fallager no dobbiamo fare wedding invitation nel prossimo turno proviamo a chiudere eh ha senso qua tenere open circular logic ma secondo me non particolarmente noi dopo ne abbiamo però non ha neanche senso farsi questa a meno che non trovo without whiteout che non sembra io abbia trovato sotto sotto e in chi ha la terza delle stripe e tanto vai e niente vai tocca a te se scombi adesso ggwp tenere in mano cioè tenere open il counter a meno che non paghi uno contro uno che ha finito trono meh se trova la combo vince se no dopo ci proviamo noi e dopo gli ne facciamo 4 9 cioè sui 5 9 13 17 se no abbastanza però altare di hash cioè deve trovare tra l'altro ok non questa combo ma quella di sì di makeshift cioè io finchè non fa makeshift non concedo perchè questa cosa la posso battere ok siamo arrivati a un punto a il nostro caro amico non gioca né weather the storm né makeshift munitions non capisco perchè ma reckless fireweaver che mi sembra peggio di makeshift munitions perchè sta sotto idro e removal quindi meh però da meno di non fare segnalini infiniti e poi e risposta a removal farlo si ci sta allora dicevamo che andiamo a mettere island world obsidian alcolite non mi sembra pazzesco possiamo andare a mettere le idro ah no però io voglio andare veloce cioè nel senso vogliamo andare veloce quindi sicuramente le circular logic possono andarsene a quel paese e possiamo mettere due dispel e due idro perchè queste vanno bene come risposta però nel senso idro arriva nel momento in cui sto per già perdendo secondo me lui può avere scattershot ma che comunque è instant e comunque è a storm quindi va bene così ok ok yes quindi gara di combo keep abbiamo sempre doppia branza più shuffle effect abbiamo già tireless tracker eh si tireless drive vai bella doppia branza mi piace terra mappa noi noi facciamo questa terra passo abbiamo un po' troppe lande in mano un po' se posso dire forse potevo fare già tireless drive senza troppi problemi ok certo sì facciamo brainstorm metto via una e oh ho sbagliato ma sì sì secondo me ho sbagliato devo mettere via questa pianura fa niente ok ash barrens adesso facciamo che prendo l'isola e facciamo terra bianca tireless drive vai iniziamo a menare senza troppi problemi metto uno stop in upkeep nel mio perché a fine turno facciamo brainstorm e poi shuffalleremo vabbè abbiamo il abbiamo wedding invitation comunque sì ma non ha preso lo stop in upkeep grande zio che c'è lo stop in end allora facciamo brainstorm porca poi allora mettiamo via un'isola che la tutoriamo e secondo me una tireless drive che ce ne basta una tutoro isola faccio isola attacco separa metto il cimitero di panalisis lui tanto non ha target quindi insomma ah grande main 2 facciamo di panalisis qua mi sono tolto un blocco dalle palle vai tocca a te ah lui è un po' indietro sulle lande di trono turn off perché mi sembra il caso di torno a fare sta cosa vai mi ero scordato di car clan shaman dannazione e lo gioco anch'io quel mazzo grande si allora facciamo brainstorm belle tutte allora cosa non mi fa impazzire una secondo me e due facciamo così facciamo così facciamo così e prendiamo una terza di queste wedding invitation e travel inspector tocca a te e prismatic strength tra l'altro ce l'ho ancora del mazzo io mi sono scordato di questa piccola particolarità lui la trono il turno dopo se 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 ok pesca anche due carte quello sciamano di me quello sciamano simpaticissimo se ok ok tre carte due ok cioè va bene abbiamo una pescata così quindi ok deadly dispute su un altro artefatto va mezzo bene nel senso che io non ho tenuto open il dispel e sono un po' stronzo però va bene potevo anche evitare secondo sciamano non cambia assolutamente nulla e ha solo due artefatti ok perfetta questa terra perfetta noi facciamo che lui non può essere bloccato e poi attacchiamo con tutti e due senza paura no sono un coglianazio in realtà tutto ho sbagliato perché questo mi blocca del tutto no no ho sbagliato sbagliato scusatemi non dovevo farlo così un veramente sbagliatone cacchio non ho pensato come funzionava questa cosa dopo quindi in realtà secondo sciamano è forte minchia meh fallaggi sotto avrei dovuto fare questa cosa prima presumo sciamano no vai ok prossimo turno non abbiamo più il non potete bloccarmi perfetto cazzarola proprio l'ho giocata al contrario questa babazzo babazzo vabbè non è un problema risolviamo in qualche maniera la risolviamo no l'avrei ucciso questo turno perché poi facevo inside out scartavo prismatica sui danni però lui in realtà poteva fare potendone romper due no non so se ne uscivo molto bene comunque no l'ho buttata questo game qua l'ho buttato in realtà con doppio sciamano anche volendo non mi vedo non mi vedo benissimo però pesco a fine torno tengo su un blu ah già che c'era questo cessone stappo pesco sono fallagi ok ponder i miei litroblast e che cazzo trave inspector e che cazzo va bene vediamo un bel circolo di merretriver adesso si minchia minchia doppio carcal noi abbiamo messo due idroblast due e no una sola minchia che problema gigante si 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 porca eva ashnod ashnod altar che palle che palle non ho pensato a sta figurina e la gioco eh però non sono abituato a pensare che sia un problema per le mie è quello il problema vero se stop in minchia ne lo scrivo adesso ha doppio retriever con seed perché ha vite infinite eh no l'ho sprecata io non seedando le idroblast in realtà e non pensando che questo potesse uccidermi lui eh no ho fatto proprio una brutta 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 giocata vabbè ci riprendiamo al prossimo game doppio poi non potevamo gestirlo se trovavamo un idroblast eh devo seedarle e invece dei dispel ho proprio sbagliato perché pensavo a dispel per le dispute però effettivamente dovevo proteggermi di più dai car clan che dà il suo vantaggio carte vabbè fa niente facciamo la prossima siamo tornati sul play per terza partita quindi iniziamo noi abbiamo un ponder credo di chi parla senza troppi problemi doppia strength insomma basta avere un bianco vediamo no non c'è e infatti cazzo eeeh any order yes beh abbiamo la seconda landa non fa molto perché è il blu però giochiamo 197 peschini e questo mi piace mono red quindi se riusciamo a fare tribe che mette al cimitero una strength vediamo non riusciamo vai pure doppia tribe è una persona in giro mi stai perdendo in giro per caso doppia tribe tu che fai cool dota perché di solito c'è sempre cool dota dietro no due mana icore non me l'aspettavo beh è forte con cool dota effettivamente fa pescare una carta però anche implement e costa uno in meno o stella alla peggio icore mi sembra tanto minchia che peso che gran peso ci basta il bianco fatto va bene i core west pensi peschi una carta in più effettivamente non ci avevo pensato non mi fa impazzire un costo due però mazzo per favore il bianco per dio abbiamo doppio strength doppio eh wow 14 diamo a g2 non vi faccio vedere cosa giochiamo wedding invitation il bianco lo vedevamo tra la madonna allora via le circular logic che sono una carta che mi è sempre affascinato che però dentro le idroblast eccole qua ma credo basta in realtà cioè non mi sento così sotto nel matchup anche la blacksmith secondo me è ok possiamo mettere al posto di display ma in realtà blacksmith è una protezione non mi sento così in difficoltà però eh questa mano la keep over coi colori in realtà la keep over coi traben e fallage che teoricamente fanno entrambi i vantaggi mentre prendono tempo sui blocchi vai fallage vorrei non doverla far diventare un 1-4 se posso dirla terra monasteri no voldare voldare lo possiamo bloccare non terra grazie orca non ho tolto le deep analysis vabbè fa niente non prevedo di castarne però forse potevo mettere dei disperi sulle deep analysis idroblast mi sembra una carta vai è 0-3 ma almeno si è ciclata poi comunque ho sempre open il token per cercare di fare ancora ciclo vai si terra no sinta terra cool dota tenuto a 7 non dirmelo ma attenuto a 7 sul draw monolanda perchè tanto sintetizer sarebbe fantastico per me un po' meno per lui ma chi se ne frega minchia ehm facciamo isola pesco tanto pescherei comunque cioè dopo vuoi dire questa è una partita dove posso anche tirare deep analysis minchia e farebbe troppo ridere meno ti giuro meno fortissimo secondo archeologist bella wow scusate ok vai ma guarda anche no se non hai pescato terra io non te la voglio far girare di qua cazzo l'ha trovata era una bocchino cazzo mi ha fregato vabbè ti dirò basta che non hai cool dota in mano ho cool dota? sicuramente ho cool dota va bene ero un po' lì sopra ne facciamo un'altra adesso ok tireless tribe è una carta eh facciamo isola fa la juju pesco cioè pesco prendo questa ok ok cicliamo questa ok dobbiamo cercare inside out possiamo anche pensare di cominciare a fare quel tireless tribe dalla mano eh però il problema è che poi ti scarti un sacco di carte per tenerlo via invece le guida c'è white out però ah no abbiamo wedding però quanti però in una sola frase avendo wedding sono un po' meno ingazzato per sta roba facciamo implement perchè no paro non mi attacchi ehm preordain ma che belle sono tutte e due molto belle in realtà io credo io credo di lasciare sopra questo prismatic faccio terra tireless tribe terra tireless tribe e tiro doppia volta prismatica vai pure tocca a te vai certo quella di paralisi si è pesantina in mano però beh la tiro dalla mano non dal cimitero sicuramente la prima volta cioè la voglio sfruttare tutta se devo perdere tre vite è comunque è noto che è un mazzo che mette molto in difficoltà gli avversari tranne il mio po' di prima con bello tranne il mio po' di prima con altartron che non lo vedevo particolarmente preoccupato se attacchi con tutto ci sta bello avere tripla prismatica qua 1 2 3 ok bolt in testa zio devi fare la risposta prismatica al bolt non puoi farlo adesso cioè farlo adesso è sicuramente un buon piano in realtà mi va bene fare così poi se lui fa dalla mano bolt qua sopra io scarto una terra o dip analisi forse no una terra più 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 4 secondo me il rosso non farà danno e prendo 0 e perdi dei token perdi del board inside out inside out noi non ce l'abbiamo facciamo che pesco 2 blacksmith open ma dicevamo dicevamo ho vinto attacco sì stavo ragionando su questa cosa ma allora lo facciamo lo facciamo inside out qua intanto per lava d'arte abbiamo prismatica al cesso con tra ben open quindi ce la portiamo a casa noi qui facciamo questa che carta forte white out cioè no non è vero fa schifo però in questo momento è molto forte teoricamente abbiamo vinto 5 9 9 17 sì ne facciamo veramente un botto quando giriamo questa cosa eh no non devo fare questo devo fare così ci metto un attimo perché quei tasti non sono proprio abituatissimissimissimo a giocare il mazzo però 19 veda lei secondo me mmm quasi ok allora facciamo g3 dai che se vediamo le carte giuste secondo me tipo analisi se alla fine lo lascio ma sai che quasi quasi non mi ha fatto così schifo che è vero che vispel non è male eh però tipo analisi ne sa ok vediamo un po' mmm non è male sta mano secondo me due carte che si ciclano without just trends in mano però neanche devo partire a terra tappata vabbè eh monastere figurati forse partiamo idroblast vediamo cosa peschiamo perché magari peschiamo una terra blu e possiamo fare terra idro into fallagi minchia eh va bene vediamo le giocate per dopo vai tocca a te meno che prima lui non ha tenuto una bella mano adesso è sul play dimmi che hai fatto ancora lo stesso keep di prima ma non è possibile cioè due errori della stessa partita uguali non li fai adesso farà cooldown di dota grande classico insomma ce ne aspettavamo tutti un po' però si mangia due botti che comunque facciamo facciamo che prima feccio non è fantastico perché potrò trovare la terra bianca in cima però preordain bella questa no questa sì perché mi fa mettere al cimitero quell'ottima prismatic strength vai certo dobbiamo trovarla a lander in realtà secondo me più che altro infatti cioè però no due carte in mano per te saranno reckless impulse e experimental synthesizer così a pelle diciamo ponder che cerca l'anda no grande possiamo fare doppio pezzo facciamo questa doppio pezzo che para tutti i suoi pezzi cioè potenzialmente supponendo che non voglia tirargli dei botti in testa però se vuole farlo va bene a meno che non vedi un pezzo di combo secondo me è di 21-4 va bene questa mi sembra una carta importante vai quante prismatiche gioco? 27? 3 ma le vedo tutte vai sì se ti socchio una montagna faccio prismatica cioè se vuoi poi tirargli un botto sopra proteggiamo dal rosso va bene lui ha una carta in mano io sto a 11 minchia non ha attaccato è una 0-3 secondo me è sbagliato cioè ha proprio miscliccato ponder prima di terrestribe la terra non farebbe schifo ma quanto siamo capaci di giocare oggi facciamo così così e wedding invitation shuffle no in realtà siamo indietro un turno però non si può avere tutto dalla vita faccio questo faccio terra passo adesso allora faccio questo faccio terra passo lui è sempre una carta in mano noi siamo sempre a 13 doppio blocco ce l'abbiamo potenzialmente bisogna vedere cosa pesca dalla cima noi però al prossimo turno facciamo tireless tribe con altri pezzi non attacca eh non attacca secondo me non attacca 20 centesimi che non attacca minchia avrei vinto 20 centesimi allora facciamo tè perché tanto stranze in realtà non posso comunque pagarla a meno che io non trovi non queste dal c non credo di volerle eh facciamo tireless tribe secondo me facciamo anche wedding invitation pesco ponder peccato forse dovevo forse dovevo fare clue token perché è comunque una carta in più in mano per tireless tribe se mai dovesse farmi adesso che cacchino ne so relic of progenitus certo 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 certosino a meno che non mi fa il botto su tribe io qua paro con fallagi la monastery e basta così mi tengo open traben per il flashback di prismatico vai tutto 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 turo tutto turo tutto inside out qua se io faccio terra posso fare inside out e avere open prismatica anche così vai so che non è fantastico fare questo invece di una snowland ma va bene in sci tanto dovrebbero bastarmi pesco imbloccabile tu hai una carta in mano oh va che bello ha concesso tra l'altro non era un botto ed erano 5 9 13 17 21 perfetti cioè uno in più in realtà non perfetti ma è buono contro monoreddy in effetti non mi sento malissimo da questo matchup però dobbiamo vedere veramente sempre wedding invitation cioè la combo abbastanza in fretta ma giocando i 976 peschini che mi piace giocare non c'è troppo problema bel mazzo bel mazzo secondo me potevamo essere 3-0 se non facevo quell'errore di side prima vabbè fa niente andiamo alla quarta partita allora quarta partita siamo sul draw keep possiamo fare drive di primo o anche di secondo se vogliamo proteggerlo con circular logic probabilmente lo faremo di secondo affinity da questo player non me l'aspettavo facciamo terra passo cerchiamo landa azzurra ma non è affinity è una roba strana ok abbiamo un pezzo della combo già in mano abbiamo anche una protezione vediamo se quel circular logic ci torna utile sì allora noi qua secondo me andiamo con la protezione attiva possiamo fare inside out e sono 5 9 13 17 21 con una protezione attiva però potrei anche aspettare il prossimo turno ciclando qualche carta e vedendo che succede ti attacco intanto vai sì allora il nostro circular logic più andiamo avanti nei turni meno diventa forte da solo quindi dobbiamo pescarne almeno una ultra ultra smine certo certo assolutamente sì che cazzo sta giocando ok fallage wedding invitation che non credo di fare ora l'attacco ecco abbiamo bisogno di boh nel senso forse sto giocando troppo indietro deve essere tipo tron control non capisco sto giocando without white out in realtà sì beh in realtà anche una prismatic strength non mi farebbe schifo eh lui può avere nebbia con open questa però magari non la gioco conoscendo il player potrebbe avere nebbia andiamo blu fallage brainstorm e priordain priordain mi piace di più ok facciamo priordain unwind minchia va bene sì proibit mi aspetavo più tipo una crop rotation in realtà ok doppia circular logic già è diverso spacco il clou e attacco vai ok certo in realtà contro trono è sempre relativo il problema è che finché non si tappa con la schifezza di ponteri questa è una carta questa è una carta allora fallage ok abbiamo solo un counter che è counter a me che non paghi due secondo me possiamo scartare questo e questo tutto tutto con terra e attacchiamo terra e attacchiamo e vediamo di l'ho attaccato con tutto? sti cazzi fa niente vai a due fai in realtà muldrifter quasi chi se ne frega nel senso che se vuoi tappi out per fare delle cose ok ok ciclo si serve tipo il terzo circular logic che è un po' tanto da chiedere però si sa mai la vita sottosopra 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 ponder fallage telestripe bene order perchè non ci serve niente prismatics potrebbe non essere malissimo ma no questa non può attaccare cioè può attaccare ma farebbe schifo fai pure ok abbiamo comunque with the out quindi non la vedo malissimo neanche quello sia 24 perchè tanto abbiamo un sacco di danni non pazzesco va bene non mi tange particolarmente ho sempre paura della sua nebbia ciclo questa vediamo allora questa è counterata noi possiamo fare a meno che non paghi uno e poi a meno che non paghi due che ce l'hai quindi secondo me va bene così vai ok mmm Ardente Elementalist Ardente Elementalist va bene abbiamo comunque il nostro wedding invitation l'unica cosa è che dobbiamo cercare di pescare sta cazzo di Inside Out numero 2 perché se no è che palle no scusa così wedding invitation ponder any order yes fallaggi eh se vi fa vedere di essere qua eh sono tanti eh proibit su questa mi va anche bene vai ho soltanto una logica adesso no due in realtà nel senso che poi posso scartare fargliela pagare tra due però c'è minchia non è così forte ci arriva tempo fa ci sarebbe servita di più effamerata lei lui fa effimerate target se faccio questo funziona non lo so è un'idea ma non sono sicuro che vada bene no niente non ha funzionato do ho sbagliato vera non puoi no è solo Vines of Vastwood che funziona capita ho errato ho errato ho errato ben pescato inside out allora palle no abbiamo sbagliato che lui fa proibit io faccio counter no no abbiamo sbagliato siamo andati troppo in là nella partita forse dovevo andarci dentro un po' più sereno va inside out in twint eh ma tanto riprendeva con effimerate siamo andati troppo in là nella partita ho sbagliato e tolgo una pianura metto triplo di spell e tolgo le logiche che secondo me sono veramente bruttine è una versione strana di trono non credo di starci male credo di aver giocato poco bene la prima partita però quindi cerchiamo di giocare decentemente la seconda dopo di cui le prismatiche però lui secondo me gioca qualcosa tipo vratte non so se siano forti contro di noi forse le hydro blast al posto delle prismatiche mi sembrano sempre meglio così un po' più di protezione anche per elementalist che ho visto che la fassi dove essere wildfire è un bel target si dai vediamo se mi ha preso la cosa cosa hai dato si perfetto yes keep facciamo terra passo e cicliamo per blu basic land cycling prendo blu stappo pesco questo terrestrub vai abbiamo esposto un po' questo terrestrub magari vuole fare tipo una giocata forte tipo faccio remover invece ok facciamo preordain ok giusto così facciamo tra ben inspector vai questi sono turn off qua sono 4 9 5 9 13 17 non abbastanza ponder prendo tipo di paralisis così shuffle no e combatto per 2 pesco 2 non pesco 2 ah no si pesco 2 pesco 2 va bene abbiamo una hydroblast che però forse dispele meglio vai devo tenere un bianco open attenzione secondo me lui ha nebbia brainstorm che schifo me la seconda inside out la tengo tengo anche brainstorm in realtà così così ottenere open hydroblast fatto una cazzata e tac e tac facciamo se no adesso me lo spara sicuro 9 ok immaginavamo ci fosse una limbia di mezzo secondo me vediamo se fa un elementalista e terra possiamo concedere elementare scosta 4 però si reb ne facciamo beb è tutta una gara di chi fa più cose vai abbiamo una protezione per il nostro inside out tipo ci vorrebbe qualcosa per questo moment peace ecco quello è immaginavo se fosse una nebbia da qualche parte ok c'è flaring pain però non ho rosso io vediamo un po' un hash bar non so similari anche questa non è male passo passo non sono freschissimissimissimo però cosa vai a prendere impulse quindi vuole cercarsi la landa del trono ok va bene ok allora se lo vediamo imbloccabile qua facciamo inside out su questo poi comunque non sono tantissimo ora si cicla noi possiamo concederci questo counter puoi fare inside out su questo di nuovo di nuovo lui non ha nebbia ma va bene forse potevo usare il rosso a sto punto no davvero minchia ok attacchiamo con tutto intanto lui non può essere bloccato ma va anche cazzo di spell ok facciamo fallaggi a questo punto che vede un ottimo di spell vai porca eva ma doppio con spell 4 5 muldrifterone va bene abbiamo delmana a disposizione mi sento sempre meno bene in questa partita più andiamo avanti meno mi sento fresco qua potevo usare il rosso forse che tanto non credo di attaccare beh non si sa mai non si sa mai forse il bianco è il colore peggiore in questo spot pesco ponder non sono malissimo ste figurine allora così così e così perché tanto no no va bene facciamo brainstorm voglio sciaffrarmi via questa tireless tribe se me lo fa passare ma ah no ma c'è questo non l'avevo visto ok quindi via 1 e a questo punto via 2 perché me la vado a prendere il blu va bene impulse l'unico è bojuka bog che è fastidioso gliel'abbiamo visto noi abbiamo flaring pain al shies si isola e la gioco passo queste quanti sono noi attacchiamo con 3 quindi ne passa lui e basta in realtà ne sarebbero non ho inside out vai dobbiamo cercare il quarto inside out cosa molto comoda idroblasto su questo abbiamo anche il counter ok e che ti posso dire va bene dobbiamo proprio cercarle le figurine adesso va bene che palle troppo strano il suo mazzo ash bar veramente cicliamoci la via dalle balle prendiamo un'altra isola vai siamo indietro anni luce abbiamo 26 carte nel mazzo teachings facciamo un dispel lui farà un proibit noi faremo un altro dispel andiamo a 0 carte funzionerà questa cosa ma dispel vai lui ha due carte comunque noi intanto l'abbiamo visto neanche uno di quelli che si fanno dal cimitero si sui top deck secondo me sono un po' più forti dei miei è tipo drifter mi sembrano buoni firey cannonade perso yes prendiamo questa non possiamo più fare flaring pain che è un male quindi secondo me so che lista incredibile la sua proprio non so come si è messo nel matchup ho giocato talmente cioè tipo adesso il mazzo e basta quindi insomma secondo me possiamo anche concedere se non vedo spot giganti per noi facciamo preordain ottimo doppia landa facciamo dip analisis a 3 faccio moment peace va bene facciamo preordain sopra questa la peschiamo peschiamo altre due da questo quindi non ne ha un'altra almeno in mano cioè evolving wild e però mi serve sempre quella simpatica cosa lì al cesso come si chiama weel rush e noi i counter li sarebbero finiti nel senso sì dove avrà un'altra nebbia in mano ma proprio 100% cleansing wildfire lì sopra va bene e poi 5 carte dimmi che sono 5 terre altra cleansing wildfire che roba strana giocare trono con le land indistruttive comunque cioè mi sembra non è che giochiamo proprio 2 milioni e mezzo di basic efemerete ho preso proibit credo proibit noi non abbiamo più vediamo cosa abbiamo sicuramente non abbiamo più rosso quindi abbiamo un dispel minchia dobbiamo essere proprio bravi 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 ma molto bravi ecco tipo non così ma ciclo prendo un bianco ormai ho finito le carte in sto mazzo praticamente e siamo morti il turno dopo quindi insomma prendo ponder faccio ponder shufflo preordain lui fa weather adesso andrà 900 sotto sotto e non possiamo uscirne mai più i believe perché lui ha in mano proibit se io avessi pescato magari dispel potevo provarci così non ce l'ho fatta 10 carte nel mazzo tra i dispersi è nascosto accuratamente secondo me è tipo la penultima no non è ancora ancora 5 tutte le tribe ne avevano fatte una sola ma che palle non era un matchup così pessimo era lentissimo lui forse ho tenuto delle mani brutte facciamo l'ultimo vediamo come va cerchiamo di che il mazzo è bello in realtà va studiato però non si può giocare così a caso allora l'ultima partita ma parto sempre così allora è la mano sulla fronte ultima partita e siamo sul draw mulico perché non è una bella mano questa mano è keepable credo di mettere sotto eh però perdere un'analisi così fa schifo mettiamo sotto un inside out che analisi alla peggio la tiriamo a 4 mana dai questa la voglio vincere voglio fare il 5-0 di MTGO anche conosciuto come il 3-2 proprio è rinomatamente conosciuto così più che altro secondo me ho perso proprio perché ho giocato male due partite cioè come si può dire valutato poco le mie carte dato poco valore alle mie carte ecco così mi sembra un italiano un po' più corretto tra ben vai voglio provare anche la versione Boros più che altro perché i circular logic non mi hanno particolarmente colpito è vero che nella versione Boros hai i rally cioè non lo so non mi sembra incredibile hai qualche removal in più lui gioca tipo affinity credo attacco però affinity con l'ansia in den è strano forse Gescai cose prendiamo in questo caso secondo me Blacksmith Skin in questa partita potrebbe valere la pena avercelo in mano carta fortissima Blacksmith skill incredibile a 2 faccio Golden Egg va bene pesco 2 ok è tipo Turbo Affinity brainstorm questa è buona questa è buona per la combo vogliamo buttare una landa sì questa a questo punto di panalisi con il doppio preordain in mano mi sembra sempre meno importante facciamo terra preordain una delle due lande la teniamo una delle due lande la buttiamo attacco vai vai pure tocca a te golden egg 2.0 questi guadagnano 3 vite l'uno ricordarselo tappando 2 va bene sì ok circular logic quindi noi andiamo di preordain intanto di panalisi dobbiamo averla per forza in mano vedo ok terraponder un sacco di peschini oh belle ste figurine se potessi anche vedere che cacchio ne so una tribe però buttare via due peschini mi piange il cuore quindi facciamo così e poi dopo no non posso andare indietro sbagliato beh tanto pesco pesco terra faccio terra ah già fatta sono un babbazzo pensavo di non avere ancora fatta terra vai niente vinceremo dei traben inspector poi l'ultimo giro faccio il side out su traben inspector lo faccio diventare 2-1 fatta vinto la partita bah non posso più attaccare con traben perfetto peccato sì pesco due oh porca miseria devo aspettare due turni per fare quella tireless tribe due turni che sbatti non è vero che lui non ha un clock incredibile però sai due turni e devo vedere wedding invitation e come no ranella vabbè ranella viene già bloccata incredibilmente cioè bloccata da fallage quindi insomma va bene non mi sento troppo meh evolving e prendiamo il bianco prima cosa base poi facciamo un ottimo preordain secondo me e come volevo si dimostrare se chiami una figurina la figurina arriva facciamo wedding invitation passo non puoi farmi counter su wedding invitation per dio pesco anche prismatic strand molto fico non fa guadagnare due vite no è tamigos che fa guadagnare due vite non mi ricordo mai c'è una protezione che fa guadagnare delle vite che non è male ma forse è quella verde di tamigo comunque un altro golden egg lui ha tutte le lande belle bravo comunque dust to dust non mi sembra malissimo in sta side se posso dire la mia però lo gioco da due ore questo mazzo quindi non è che ho proprio tutta l'esperienza del mondo secondo me ci rifarò anche qualche video perché è molto interessante cioè sono quei mazzi che dici se lo masteri secondo me non puoi mai perdere ok invece perdi uguale però con uno stile non indifferente lui gioca jescai affiniti facciamo hash barrens prendo bianco facciamo terra tireless tribe tocca a te abbiamo prismatica e blacksmith kill open entrambe vorrei cioè non è che ok perfetto non volevo essere troppo e poi abbiamo without white out che insomma tanta roba cioè noi il prossimo turno potremmo chiudere poi non abbiamo un counter in realtà se vi ci fa counter su inside out quello è un problema però nella vita non si può avere proprio tutto 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 mi sembra una buona mano cioè abbiamo circular logic che non credo che funzioni no circular logic devo dire che non mi sta particolarmente facendo impazzire credo che vorrei qualche interazione un po' più indipendente dal mana del nostro avversario tipo dispel main deck cose così dispel main deck secondo me ne sa in questi mazzi ci abbiamo fatto grande scusate me lo distratto anch'io un po' papapero papapopo noi qua blocchiamo questo e questo qua scarto circular logic secondo me oh scarto questa prendo 4 eh anch'io l'ho dovuta leggere 15 16 volte quella figurina va bene sì speriamo che non abbia un counterspell forza non hai un counterspell ok ok perfetto allora stampopesco oh inside out numero 2 in realtà è una figata forse potevo tappare meglio presumo però non serve non serve neanche saccarci questo pazzesco ok combat toh allora scarto scarto without white out mica devo imparare la pronuncia di sta carta dopo vado a vedere come si dice perché 9 lui può guadagnare 9 vite cazzo 9 vite sono tante però diventa 3 vabbè ne ho abbastanza ne ho assolutamente abbastanza 15 cazzo le galvaniche non abbiamo pensato alle galvaniche Flavio proteggo dal rosso forse devo fare prima proteggo dal rosso e poi vediamo come va ok e io qua pago 3 una carta in mano vinciamo la partita perfetto quindi non aveva counters per sé come aveva metalli crebili adesso non avendo come dicevamo poc'anzi niente per gli artefatti diventa un po' più complessa allora secondo me che cazzo sai allora i dispel non sono malissimo perché prendono dispel o hydroblast secondo me è dispel fuori circular logic che abbiamo detto non essere incredibili ma proprio mai in questa lega e basta credo ho messo 3 dispel un hydroblast però lui potrebbe avere car clan shaman quindi prediligiamo come abbiamo visto prima le hydroblast però sono tante 3 hydroblast forse vediamo 4 hydroblast vediamo vediamo le logiche le taglierei sono una bella carta scusate sulla carta ma non impattano mai mai mi sembrano sempre brutte counter a costo 1 che fa forse spike cioè non stiamo giocando mono blu a meno di partenze incredibili che però non è che mi è capitato spesso di farne niente di di che ok forse tra l'altro giocherei sempre uno split 2 dispel 4 beb keep abbiamo un peschino per me la mano va benissimo è perfetta stappo pesco tireless drive stappo pesco tireless drive perfetto il problema è che lui qua noi dobbiamo cercare la protezione perché lui potrebbe avere journey to nowhere giustamente ma che belle carte tengo tengo top top vai secondo turno facciamo terra bianca fallaggi archeologi forse potevo fare anche direttamente tra ben più open hydroblast che se adesso mi fa makeshift non bellissimo devo dire vai fallaggi decide rischioso perché se ti mini la montagna però beh in realtà ci si sta o quante ne vede lei tre carte forse si potrebbe giocare addirittura augure of bolas che a prescindere parai token mi renforcer che ce lo bruciamo mi diciamo parai token bene a prescindere e non butta il cimitero però anche qua sono tutte idee che mi vengono dopo un paio di ore di playtesting meno un'oretta qualcosa uno due tre quattro non possiamo fare mi renforcer ok bravi bravi tutti molto bravi secolo qua sciamano di sta minchia allora vediamo un po' noi possiamo fare idroblast qua sopra innanzitutto travel inspector mi spiace molto aver buttato via la possibilità di fare wild più brainstorm ma questi cazzi qualcosa è da uccidere vai tocca a te va bene core sky fisher si golden egg che possiamo fare dalla cima del mazzo ma che bello sembra forte questa figurina io ho sempre un sacco paura di non ho blacksmith vorrei anche più blacksmith se posso dire forse giocherei meno circolo logico un paio di blacksmith in più questa via che tanto la cerchiamo secondo me è una delle due wedding invitation può andarsene cerchiamo l'alanda particolare questa facciamo terra wedding invitation passo non tengo penita però se non mi sembra necessario doppio inside out figo perché giochiamo sopra counter spell ci sta bello questi mazzi che gioco con me stesso praticamente cioè ah ah tutti che side hanno relic vedo già al secondo che mi becco e risponderò con vabbè non è che mi faccia proprio paurissima se devo dire dispel bello il problema è sempre quello non non trovo la la protezione cioè journey turn over è un problema gigante secondo me per sto mazzo è impossibile che non ci sia è vero che non è tanto giocato in questo momento ranza ok brainstorm bella figurina di magic anche doppia delle stripe andrebbe bene per giocare sopra journey turn over lui ha un bianco solo però lo può filtrare vabbè niente di che adesso sono pieno di protezioni in realtà in mano perché comunque hydroblast dispel weed out che insomma cioè potrebbero anche spingermi a dire vai buttati però se poi lui ha in mano journey turn over abbiamo bruciato un tireless stripe quindi almeno almeno voglio aspettare di avere averne due oppure lo giocherò così incoscientemente come so fare io cioè a cazzo mai pescobello ma non è bruttissima facciamo brainstorm le brainstorm tirate il main phase ragazzi sono bellissime ah doppia tribal alla fine è arrivata cosa non mi interessa questa traben perché poi faccio ponder shuffle strength molto forte forse il secondo in solid out perché sono pieno di counterspell vorrei una terra attenzione attenzione metallic rebuke dispel forse potevo evitarlo ma vabbè siamo presi bene ah anche blacksmith skill minchia no non le voglio tutte queste facciamo travel inside out blacksmith skill shuffle sto cazzo poi facciamo tireless stripe passo vai pure tocca a te lui anche se mi fa giorni su nowhere qua poi io faccio la seconda eh il problema che minchia non ho il secondo bianco ha signora maria non abbiamo il secondo bianco facciamo che paro questo qua vai lui ha 5 carte in mano sono proprio tante 4 sono meno 4 sono meno se posso dire la mia io vorrei fare doppio blu inside out qua in blocco cioè giriamo e cicliamo la sta carta tu fai questa e io passo non te lo aspettavi eh turn off auto heal hai fatto hydro blast e passo perché non posso attaccare in questo spot cazzo siamo pieni di protezioni deve passare proprio soltanto inside out che non è una roba semplicissima però non mi sembra neanche impossibile vi hash barrens vi ha tirato hydro blast e metallic rebuk che comunque è una carta non è che possiamo si skill qua sopra secondo metallic rebuk un po' mi stai sul cazzo se posso dire va bene non pago tre faremo la seconda tribe si devo tenermi vivo travel inspector viva viva no paro paro urca puttana ho sbagliato adesso 6 6 non è tanto terrestrive tocca a te per lui la combo ce l'abbiamo in mano lui ha due carte e io sono a 4 non una gioia per gli occhi si e ti tolgo di sponder vai il problema è se ha un altro giornito nuovo e l'abbiamo perso easy andiamo a g3 non vedo nessun tipo di problema cioè si un pochino si però paro con le due fallage vado a 4 blocca tu e tu to 4 l'unica è che non deve avere un altro che ha un terzo porca puttana counter abbiamo prismatica ok quante ne aveva in mano 100 cosa divertente è che l'elica quella cosa lì non fa un cazzo ok io mi esilio questa cazzo dicendo rosso spero ovviamente tu non peschi o un counter o un'altra removal perché in quel caso sono morto porca troia anche il peschino così però rimane quello che ho detto prima zio una terra va bene un falchetto va bene ti rimbalzi ovetto vai ovetto peschi una carta fidati è una buona idea non c'è cascato allora dobbiamo giocare sopra metallic crebio questi cazzi sopra metallic crebio che non ci posso giocare vai ce l'hai non ce l'hai minchia tu sei a 19 io faccio wedding invitation qua ascolta attacco tanto il prossimo turno muoio che sono 4 volanti blocco non blocchi facciamo scarto forse potevo fare prima però 5 9 13 sono abbastanza inutile che li conto dovevo prendere due blu ggwp è pescato ah figa elettriche elettriche ah ok allora dispel dispel cosa non mi ha fatto particolarmente impazzire secondo me una di queste possiamo tagliarla dispel dispel un ponder ancora tanto comunque siamo a 3 4 8 peschini si va bene i ponder sono quelli che mi piacciono di meno forse dip analisis però a sto punto perché vale cioè giochiamo più snelli si togliamo una dip analisis se teniamo un ponder va bene così ma io ho i ponder con le stesse art soprattutto domanda epocale 1 aspetta fermi tutti cazzo fai ok così sono i ponder con le stesse art è molto interessante molto molto fico sto mazzo veramente molto fico target creature protezione from black secondo me quello che da protezione dal rosso è meglio di base protezione dal nero cioè ma cazzo adesso ragiono su sta lista perché veramente mi manda i matti yes tengo certo scusatemi tengo non lo so no non teniamo mai cazzo andare a 5 l'ultimo game dai però che schifo magic quando fa così via fallaggi via strength anche lui è andato a 5 bravo no lui è andato a 6 meno bravo di me allora keep teniamo un'isola presumo e via strength fa un po' male il cuore però vai vai ok facciamo brainstorm una però devo togliere una roba di queste cazzo no mi piacciono tutte una la peschiamo vai una la peschereccio dai mica hai tenuto un buon olanda zio perché ti fidavi un sacco della tua mano fortissima delusione posso dire delusione fallaggi ok always id mica ok no quante più non abbia nel mazzo vai una ce la siamo una ce la siamo tenuta madonna mia doppia snow cover pazzesco a due peschi due giusto a tre peschi tre a due peschi no non è vero non è così scherzavo bella questa figurina attacco e facciamo tarle stripe vai abbiamo idro prismatica attiva più di così cosa vuoi dalla vita un tucano giorni to know possiamo farci poco pazzesco o ci si